È arrivato un messaggio che ci ha molto appassionato, senti. Ciao, non riesco più a comunicare con voi. Il numero mi pare esatto. Non so, mi avete bloccato voi o non so, c'è qualcosa che non va. No, no, no. E allora abbiamo detto subito, ma chiamiamola per rassicurarla numero due, poi per approfondire un po' la conoscenza. E Antonia, ciao. Ciao a tutti. Ciao, buonasera. Allora, no, mi spiace che tu abbia pensato, ma noi non blocchiamo mai, figurati. No, perché ho visto innanzitutto, grazie perché mi fate una compagnia immensa. Ma amore. E poi, siccome vedo che non sono stati visualizzati perché da anni che mando qualche messaggio così di eventi magari. No, ma quello sai che può essere che il tipo di macchina che riceve messaggi per noi non dà la spunta blu. No, te lo dico con certezza perché io scrivo spesso a Radio DJ e tu sei testimone. Ecco qua tutti gli audio che mando in radio e non mi spuntano mai. Con questo colpo qua mi avete emozionato e mi avete fatto non felice di più. Senti, ma parlaci di te Antonia, dove sei tu? Allora, io sono in Val di Non. Val di Non, tra Bolfano e Merano. Meraviglioso, meraviglioso. Cosa fai? Io sono un'istruttrice di Nordy Walking nelle scuole e le peccari. Ah, ma che bello. Quindi camminate, vabbè, la zona si presta. Sì, molto, molto. Camminate con le bacchette? Sì, esatto. Camminate a Nordica con i bastoncini. Sì, anche sulla neve? Sì, 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 i bambini poi sono entusiasti, io ho ancora di più e ti mantengono giovane. Senti, ma fammi capire Antonia, queste passeggiate vengono fatte durante l'orario scolastico come attività integrativa. Sì, sì, con i di Trento, scuola sport, progettone. E tipo la ginnastica, l'ora di educazione fisica. Sì, esatto, esatto. Però all'aperto, immaginati, in quei posti meravigliosi. Sempre all'aperto, sì. Ma che bello. E hai sempre fatto questo, Antonia? No, io ho fatto vent'anni di settore alberghiero a Madonna di Campiglio. Ah, ok, ok. Quindi sempre legata alla montagna, comunque. Sempre, sì, sì. No, poi mi piace, sì. Vado a rampicare, a sciare. No, no. Ah, che giusta. Sono montanara, montanara proprio. Hai famiglia? Non ho famiglia, ho un compagno meraviglioso. Ok, che cosa fa lui? E non fa il pizzaiolo. Ah, c'è l'attata. Ma avete una, cioè, lavora presso una struttura, cioè, per dire, stasera mangiate dove cucina lui? No, 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 stasera io mangio a casa mia, lui fa le pizze, fa un annetto, lui va in pensione e partiamo a fare il cammino di Santiago. Eh, ma che progetti! Ma che progetti! Bellissimo! Dobbiamo un po' pulirci bene, no? Eh, no, certo. Lo trovo, ma poi meritatissimo, mi sembra. Sì, molto, sì, 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 sì. Noi qua stiamo aspettando la neve, io sono qua sulla finestra di casa. Eh, ma infatti le temperature sembrerebbero portare verso quel concetto lì, oppure no? Sì, 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 ho il Brenta davanti che lì già nevica, speriamo, speriamo. Ce n'è bisogno di acqua un po' dappertutto, no? Eh, no, certo, da morire, da morire. Qua in questi giorni ha un po' piovuto, però poca roba rispetto a quello che servirebbe. Sì, non mi pare ancora vero di essere in diretta con voi. Ma, 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 non sei un piacere nostro, perché io la volevo quando abbiamo sentito il messaggio. Ma, beh, ma no, ma come? Ma come, perché stai facendo tutto giusto. Cos'è che ti prepari tu stasera? Allora, stasera preparo i denti di leone, che non so se è il tarassaco. Il tarassaco, certo, la pianta. Sì, sì, sì. Con la pancetta, e sì, pancetta calda e cipolla. Ah, capito. E dopo, con più da verdure che da altro. Ecco, penso che... È un pezzettino di formaggio, di ricotta. Brava! Pancetta, formaggio e poi molto le verdure, Antonia. Brava! Beh, ti guardi qualcosa in tele, Antonia, stasera? Allora, sono più... Leggo più che altro. Ogni tanto, guardo, sì, sono più da lettura che da... Hai un libro da consigliarci? Ma, nel momento sto leggendo Sisu. È un libricino piccolissimo che parla di tutto il modo di vita in Norvegia. Ah, vedi, beh, comunque lei dove c'è temperature basse, non la freghi. Sì, sì, anche perché la mattina vado sempre a fare il bagno al Lago di Tretta, alle cinque e mezzo di mattina. Ah, bella, 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 bella. Una iena, una iena. Antonia, è stato proprio un piacere conoscerti, un abbraccio grande. Ma dai, grazie mille a voi, mi avete fatto non un regalo, di più, un regadone. Ma figurati, è stato proprio un piacere. Ciao, bella. E grazie della vostra compagnia. Ma figurati, grazie a te per esserci. Ciao!